Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto Link in descrizione Salve a tutti ragazzi e benvenuti a me Siamo tornati su FIFA 17 Come potete vedere c'è un po' di casino nella mia stanza E infatti purtroppo mi sono dimenticato di riattaccare il microfono Quello che uso normalmente Quindi scusate se l'audio di questo video sarà un po' schifoso Una qualità bassa Però ragazzi ho trovato di tutto Domani vedrete il video sulla mia postazione finalmente lo so Ma siamo tornati su FIFA 17 a spacchettare Perché sono usciti non solo la squadra della settimana Non sono i man of the match che stanno un bordello Ma soprattutto questi qui ragazzi I want to watch E sono delle carte dinamiche che si modificheranno in base al comportamento dei giocatori Ragazzi io ho comprato un po' di FIFA Points Perché faremo questo Spacchetteremo sia su Xbox One che su PS4 Perché sono usciti Jumbo Packs Non ho molte aspettative Però ragazzi chi se ne frega Lasciate un bel mi piace Tanto allora io ho visto Dexter e ha trovato il mondo Sono sicuro che pure Joker troverà il mondo Io da bravo stronzo non troverò niente E infatti manco un walkout Perfetto Però passa l'ambulanza Bene un pacchetto di merda proprio Perfetto Poteva andare peggio Poteva andare peggio Ma poteva andare anche meglio E invece no E invece no Che cos'è questo A te Chi è Aiù No non so se è Andrea Aiù Vabbè quanto sta ragazzi Secondo pacchetto un meno Che non farà un cavolo Intanto passa l'ambulanza Forse è per quello Quello qua Aiù Oh porco giù Dò ma che è Niente Oh manco un walkout Oh che cazzo è Oddio 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 Che ho trovato Che ho trovato Sansone Sansonino mio Sansonite Che cazzo Avete visto quanto era grosso La palla ragazzi Che c'è senza Ma Sansone Che si chiama Sanson Lo so Lo so leggere Beraino il beduino No ragazzi C'è sicuramente non faranno un cazzo Sicuramente non faranno un cazzo Due nello stesso pacchetto Trentamila beraino Beduino Oh mio dio Oh mio dio No vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Un man of the match E due Due nello stesso pacchetto Ma che mi è stato a raccontare ragazzi Che mi è stato a raccontare eh Raga a me devo dirgli Quello ha trovato quello Quello ha trovato quell'altro Ma nel rapporto Sculata Quanto spacchetto Non mi batte nessuno Allora ci continuiamo ragazzi Anche perché Questo è il terzo Ultimo pacchetto Niente Walkout Oddio Oddio ragazzi Oddio Ma questa cosa Walkout Walkout Oddio non so parlare Walkout Ma che cazzo Mi è stato a raccontare Raga Ma che mi è stato a raccontare 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 Boh Pure che hai da Ah no Non è che hai da balde Porca vacca Raga ma che è oggi Che è oggi Dite me che cazzo è oggi Fuck E questo deve vale un botto Ragazzi Questo deve vale un botto 600.000 Oddio Oddio Cristiano Ronaldo Come arriva Cristiano Ronaldo Come arriva 97 di velocità 87 di tiro 87 dribbling Oh porca puttana Oh E abbiamo Spacchettatore Su PS4 Io qua ragazzi Allora non mi fermo Perché Ce ne mancano due Gli ultimi due E non è Walkout Vabbè Infatti dicevo Non mi riesce il forte No Manco un walkout Tra l'altro Avete visto Manco un cazzo Di walkout E manca adesso Perfetto Per a forte Per a forte Ah è andano I 187 Peccato Peccato Oh pure Barzagli Porca vacca Ragazzi Sì abbiamo Gli ultimi due qui Poi passiamo su PS4 E tanto penso che Avanzeranno ancora Perché Chi se li apre qui Chi se li apre qui Porca vacca Un altro if Portiere Sorrentino 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 Oh regà Regà Ma che cazzo sta succede Voglio troppo Mi piace C'è pure la spigliqueta Gli manez Madonna Però questi qui Ma proprio questo Così A buffo Oh A buffo L'ho aperto a buffo L'ho aperto a buffo 82 TNMS Ma che cazzo ragazzi Ma che cazzo sta succede oggi Ho perso il conto Di quello che abbiamo trovato TNMS TN Aspetta Però ho visto Pure il cerchio Tutta rubaccia Non ci pregna Oh Pure belli Pure belli Madonna ragazzi Questo potrebbe essere Lo spacchettamento Più bello Di sempre Però a sto punto Ce ne andiamo Anche su PS4 Un attimo solo Un attimo solo Ok ragazzi Siamo tornati Su PS4 E siamo pronti A spacchettare E non è ovviamente Un man of the match Oh Oddio Ragazzi Oddio 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 Pedro 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 Praticamente Il meglio Di Santa Ma che cazzo C'è Due 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 Oddio Oddio C'è C'è Ragazzi Lo metto Uno terzino One of the match Vamelo Uscire Oddio Ragazzi Non so più Che cazzo Dire Non so più Che cazzo Dire Mi sento a disagio Mi sento a disagio Ma non so Compra nessuno Ma l'importante Era trovarli Vabbè ragazzi Io direi che ci possiamo Salutare qui Per questo spacchettamento Epico Guardate i colori Della mia rosa Niente ragazzi Io direi che qua Ci possiamo arrivare Tranquillamente A 25 mila Mi piace Per un prossimo Spacchettamento Fatemi sapere che ne pensate Domani uscirà il video Sulla postazione Che è un po' cambiata Ma mi avrà portato bene Che ne so E buttate per questi video Saluto a tutti Mi è Mike Chosha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Il bollo Ma la bolla Il passerò Ma tutti quanti Amano Mike Chosha Tutti quanti Amano Mike Chosha